Ben ritrovati al nostro corso sulle banche dati e siamo giunti alla penultima puntata, la numero 11, nella quale vi voglio parlare di rapporti per la stampa, ovvero in inglese quello che si chiamano report. In LibreOffice Base i report possono essere disegnati, creati e formattati mediante un'estensione, il cosiddetto plugin, diciamo così, un'estensione che la piattaforma LibreOffice permette di aggiungere alle funzionalità di base, quindi c'è un'estensione che si chiama appunto report builder, che è proprio specializzata per questo. Ecco, nella vostra installazione di LibreOffice, scusate la voce, nella vostra installazione di LibreOffice questa estensione dovrebbe già essere installata al momento dell'installazione, insomma, ecco. Se non è così, potete verificarlo qua. Quindi andiamo nel menu strumenti, strumenti, gestione estensioni, eccolo qua, e vedete che appunto nel mio caso report builder è già installato. Ecco. Non fosse così, è sempre possibile andare nell'Ubuntu Software Center e aggiungere il pacchetto di questa estensione, perché questa estensione è inclusa nei repository, è inclusa nei repository, intanto magari, perché no, lo apriamo così lo vediamo, dicevo, è inclusa nei repository come pacchetto a sé stante, ma incluso nella piattaforma LibreOffice, quindi non bisogna andare sul sito del LibreOffice a scaricare l'estensione e installarla a parte, ma è dentro fra i vari pacchetti del repository ufficiale di Ubuntu. Quindi, appena Software Center si libera, vi faccio vedere che c'è il pacchetto apposito per questa estensione. Senza di questa è comunque possibile disegnare dei report, ma è decisamente meno confortevole, ecco, perché come vedremo, Report Builder proprio ci presenta lo strumento classico per disegnare i report, come esiste in Microsoft Access, come esiste in altri strumenti di reportistica, sono tutti impostati nello stesso modo, come lo vedremo fra un attimo, strutturando report e pagine in sezioni ben definite. Allora, vediamo un po' se cerco LibreOffice, magari se lo aiuto scrivendo report, eccolo qua, vedete, LibreOffice Report Builder, questo è il pacchetto che è necessario per avere a disposizione in LibreOffice Base questa estensione, questa aggiunta, questo plugin per poter disegnare i report in modo semplice e conforme come tanti altri prodotti. Ecco, chiudiamo pure Software Center, dunque potete fare la vostra verifica se lo avete installato o no. Se non l'avete installato, installatelo, chiudete completamente LibreOffice, lo riaprite e vi ritrovate appunto nella vostra estensione, nella vostra finestra di gestione dell'estensione, ritrovate almeno Report Builder, poi magari altri di voi che usano già altre estensioni le avranno elencate qui, io c'ho solo questa al momento, et voilà, è qua. Bene, parliamo di Report dunque, ovvero di rapporti di stampa, nel senso che il Report è, un rapporto, è un oggetto particolare della banca dati che grazie al suo tipo di formattazione permette appunto di costruire le pagine, tipicamente pagine A4, ecco, di una stampa normale, di ufficio o di casa, appunto permette di formattare e di impostare come devono essere stampate le singole pagine di un documento, sulla base ovviamente dei dati della nostra banca dati. Ecco, è anche vero, bisogna pur dire, che oggi si stampa sempre meno, se non è proprio indispensabile, si preferisce spedirsi i documenti in formati digitali come il famosissimo e diffusissimo PDF per dire, e quindi meno carta è meglio per l'ambiente, però non si sa mai, insomma, a volte è pur sempre necessario, è pur sempre più pratico avere su carta qualcosa, di avere concretamente in mano qualcosa, tipo un buon vecchio elenco stampato, eh, che non passa mai di moda. Ecco, ed ecco che quindi, come vediamo qui nell'interfaccia di LibreOffice Base, sulla sinistra, l'ultima sezione che non abbiamo ancora visualizzato e indagato finora nel nostro corso, è proprio la sezione Rapporti. Ovviamente, anche in questo caso ne ho creato almeno uno, quindi lo avrete già come esempio nella vostra banca dati del corso, ho messo uno, già preconfezionato, poi ovviamente da lì, se prendete spunto, potete poi creare i vostri rapporti personali. Bisogna dire che rispetto a quello che abbiamo visto nella lezione precedente sui formulari, cioè questi, sulla gestione dei dati della nostra banca dati con un'interfaccia grafica applicativa, i rapporti sono un po' più rigidi, sono meno dinamici dei formulari, non permettono proprio di agganciarsi con una struttura tipo formulario, sottoformulario, sottoformulario e agganciare le tabelle che ci stanno dietro. Nei rapporti non è così, è più limitata la cosa. Un rapporto è legato a un oggetto di banca dati. Questo oggetto di banca dati può essere una singola tabella, così come una query, così come una vista. Ecco qui l'importanza delle query e delle viste che preconfezionano un risultato tabellare che poi servirà per i rapporti, per esempio. Nel mio caso specifico, avevo creato una vista chiamata vi-rapporto. Se vi ricordate, vi avevo detto nella lezione dedicata alle viste, questa è una vista che lo chiamo così perché la userò più in là nei rapporti. Ed ecco arrivato il momento di usare questa vista. Quindi questa vista, che io la apro con un doppio clic, mi presenta i nostri clienti, i proprietari dei PC con i loro indirizzi di fatturazione, con i loro PC, quindi ogni proprietario con uno o più PC, con varie caratteristiche e con gli interventi fatti sui PC. Quindi questa vista raggruppa un po' tutto lo scopo di questa nostra banca dati che abbiamo usato per tutto il corso. Include quindi i clienti, PC dei clienti, interventi sui PC dei clienti. Ecco, grazie a questa vista noi possiamo creare un rapporto, quindi un documento pronto per la stampa o per creare il PDF ovviamente, pronto per la stampa, che ci presenterà nelle varie pagine, quindi i proprietari dei PC, i nostri clienti e i PC con gli interventi sotto il nome di ogni proprietario. Questo è un po' lo scopo. Quindi ho creato apposta questa vista, quindi il nostro rapporto, questo che ho già preconfezionato, si basa appunto su quella vista vi rapporto che avete visto. Ecco, dicevo che rispetto ai formulari i rapporti sono meno dinamici nell'agganciarsi ai dati perché un rapporto si aggancia a un oggetto unico di banca dati. Quindi bisogna preconfezionare questo oggetto se si vogliono più dati in modo particolare per uno specifico rapporto. Poi, la modalità di lavoro con Ripple Builder è molto simile a quella per esempio di Access, ma poi ci sono Crystal Report, ci sono un'infinità di prodotti che creano report, che permettono di creare report e che funzionano tutti praticamente allo stesso modo. Quindi imparato qui in LibreOffice Base o magari chi ha già avuto modo di usare i report in Access, lo ha già imparato e quindi sarà facilitato da una parte o dall'altra ad usare il rispettivo strumento perché sono praticamente identici. Ecco, vediamo come sempre, magari partiamo prima di vedere come si disegna un rapporto, o meno fare un piccolo esempio già come ho fatto con i formulari nella lezione precedente, vediamo questo rapporto già pronto, preconfezionato, come si presenta. Quindi, nascondo un attimo la scaletta, faccio doppio clic sul rapporto, aspettiamo che si apra. Come già per i formulari, anche il rapporto come risultato finale si basa su modulo Write di LibreOffice, quindi anche un rapporto sfocia in un documento di testo, praticamente come il corrispondente di Word, ecco qui è LibreOffice, Writer, e il risultato della formattazione e del disegno del nostro rapporto è comunque un documento Writer, vedete qui in alto sulla barra del titolo, vedete che il risultato si chiama rinterventi, come il rapporto, punto odt, quindi è un tipo documento LibreOffice Writer, come potete vedere in alto a sinistra. Come ho formattato questo rapporto, ecco, ripeto per l'ennesima volta, la grafica lascia desiderare, non è una grafica professionale, ma è una grafica un po' così buttata lì giusto per mostrarvi che si può fare, che si può formattare come si vuole, e già quando ho parlato dei formulari nella puntata precedente ho detto che si perde molto spesso, molto più tempo a curare la forma di un rapporto così come di un formulario, rispetto al contenuto in quanto tale, al formalizzarlo, al crearlo in quanto tale, che poi si perde molto più tempo a formattare. Però, tant'è, accontentatevi di come lo vedete qui, potete sempre abbellirlo voi come piace a voi, se siete magari anche dei grafici professionisti, fate pure, io vi presento la tecnica per crearlo, poi abbellitelo voi. Ecco, allora, in questo rapporto di esempio, presente appunto nella nostra banca dati, R interventi, ho previsto una copertina, quindi una pagina di un esemplare solo all'inizio della stampa, che si chiama elenco interventi, come vedete è intitolato elenco interventi, è una pagina per il resto tutta bianca, che fa da copertina del rapporto. Poi si parte con i dati veri e propri, qui c'è una schedina che vi presenta i dettagli del proprietario del PC, ovvero il nostro cliente, con uno sfondo giallino, giusto per distinguerlo, dal riquadro sottostante, che è il dettaglio del PC e di uno degli interventi fatti su questo PC. Ecco, nel caso specifico c'è il proprietario Cesare Giulio, che ha un PC per il quale abbiamo dovuto fare un intervento, e uno solo, vedete qui, non c'è nient'altro su questa pagina. Il salto pagina è previsto al cambio di proprietario, quindi Cesare Giulio con un intervento nella sua pagina, il prossimo è Darko Giovanna, con un intervento anche lei per un suo PC. Altra pagina, Edison Thomas salva anche lui con un intervento su uno dei suoi PC. Qui c'è tutto il dettaglio della persona e il dettaglio dell'intervento. Andiamo avanti, vediamo che c'è anche l'Ovelace Ada, che è anche lei un intervento per PC. Superman pure, ed ecco che arriviamo. Questi qui sono tutti casi di uno a uno, diciamo, è una persona, un intervento su un loro PC. Invece qui arriviamo a un caso più interessante, questa pagina di Tel Guglielmo, che ha avuto un intervento su PC Desk 12X un giorno, un altro intervento sullo stesso PC, un altro intervento sullo stesso PC, quindi tre interventi sullo stesso PC, momenti diversi, comunque vedete che le schede degli interventi sono agganciate a questo proprietario in questa pagina. Saltiamo pagina e vediamo che c'è un ulteriore intervento su questo PC, quindi non ci sono stati tutti sulla stessa pagina, di Tel Guglielmo è un po' sfortunato, ha avuto questo PC che ha sempre qualche problema, a quanto pare. Andiamo avanti, ce n'è un altro, Tizio Caio, con un intervento, e Wonder Woman con anche lei più interventi su, immagino, tipo lo stesso PC, vediamo un po'. Ecco, ha avuto tre interventi sul PC 2345, questa signora Wonder Woman, e alla pagina successiva su un altro suo PC, quindi Wonder Woman ha due PC diversi, ha avuto tre interventi sul PC e due interventi su un altro. Vedete che, pur non essendo curata granché, la formattazione è comunque una stampa chiara. Si capisce chi è il proprietario e si vedono i dettagli degli interventi fatti su questi loro PC. Molto bene. Quindi avete tutto sommato un bel esempio di rapporto di stampa funzionante. Allora, adesso vediamo come funziona in sé lo strumento, quindi l'estensione Ripple Builder, come funziona per creare questi rapporti di stampa. Come si parte? Si parte con crea rapporto in vista struttura. Ecco, lasciamo perdere la procedura guidata, come sempre, ormai l'avrete capito, che io preferisco partire da zero per avere il controllo completo del tutto. Quindi facciamo clic su crea rapporto in vista struttura. Nascondiamo la scaletta per il momento e si apre la solita pagina di lavoro, la nostra solita finestra di lavoro, come sapete basata su Writer, perché è il modulo Writer che poi compone il nostro report e vediamo che la prima pagina presenta già per difetto una certa impostazione. Allora, qui sulla destra vedete che possiamo dare un nome al rapporto e possiamo cominciare a dire se l'intestazione della pagina va su tutte le pagine, se c'è un'intestazione della pagina su tutte le pagine, oppure senza intestazione del rapporto, senza piedi pagina del rapporto, senza intestazione nel piedi pagina, il piedi pagina ci va su tutte le pagine, oppure che non ci sia intestazione del rapporto, che non ci sia intestazione di pagina, eccetera, eccetera, eccetera. Prime caratteristiche, quindi stampa i valori ripetuti sì o no, quindi se ci sono valori ripetuti nella nostra query, nella nostra vista di stampa, possiamo decidere se scremare le occorrenze identiche o meno nella stampa, oppure le vogliamo ripetute, ecco, queste sono delle impostazioni base che valgono per tutto il rapporto. Volevo dire forse ancora qualcosa qua? No, non ancora. Poi, nella scheda dati, possiamo scegliere se vogliamo lavorare con una tabella o vista, rispettivamente con una query, o addirittura con un comando SQL, che però esula dalle conoscenze del nostro corso, lasciamo perdere questo, possiamo scegliere fra l'elenco delle tabelle, vedete che fra l'elenco delle tabelle c'è anche la nostra vista, perché è considerata come una tabella, oppure, basandosi su una query, eccola qua, basandosi su una query, torniamo sulle tabelle e magari agganciamo proprio la nostra vista, come il report che è già presente in banca dati. Allora, qui possiamo anche applicare già subito un filtro, quindi la vista è prevista per darci un certo numero di righe e risultato, possiamo già scremarlo qua, facendo uscire la solita finestra di filtro che ci presenta le colonne della vista, quindi le colonne e il risultato della vista, possiamo già filtrare volendo, non voglio vedere certi cognomi o solo per certe città, eccetera, eccetera, eccetera. E il formato finale del rapporto di stampa può essere un documento di testo, quindi un documento writer, come quello che abbiamo visto, oppure un foglio elettronico, può anche addirittura essere messo su un foglio calc, però solitamente essendo una stampa stiamo pure sul documento di testo che è il classico. Ecco, qui sulla sinistra vedete che c'è, per difetto ci sono già alcune sezioni della pagina, c'è un'intestazione pagina, quindi in questa area della pagina vengono messi scritte, quindi etichette, scritte fisse o campi variabili che andranno su ogni intestazione di pagina, quindi per ogni pagina nuova ci sarà quanto viene messo qua. Poi c'è un'area di dettaglio, ovvero il corpo della pagina e un piedi pagina, quindi tutto ciò che viene ripetuto ad ogni piedi di pagina, per ogni pagina. Ecco, importante, vedete, avendo già seguito la lezione precedente sui formulari, alcuni campi, scusate, alcuni pulsanti qui si ripetono, c'è il pulsante aggiungi campo che ci permette di scegliere, che poi questo ha già aperto, avendo scelto la vista, qui ci presenta tutto l'elenco dei campi risultato della vista e questi campi possono essere aggiunti o trascinati nelle varie sezioni del report per poi farle risultare nella stampa finale, così come il famoso navigatore, importantissimo anche qui, avere sempre aperto il navigatore per avere in chiaro su cosa stiamo lavorando, su quale sezione, dove stiamo lavorando. così come ordine e raggruppo, anche questo è importante per creare i raggruppamenti del report, che chi ha già creato report anche in access e in altri prodotti sa cosa significa, quindi si può raggruppare, per esempio nel mio caso, nel report che abbiamo visto prima, già preconfezionato, era raggruppato per proprietario di PC, quindi c'è una rottura nella stampa degli interventi sui PC per ogni proprietario di PC, un raggruppamento, quindi ogni proprietario di PC aveva sotto i suoi PC, i suoi interventi di PC, i suoi legati a lui, e questo è ciò che permette questo ordine e raggruppamento, questa finestra. Poi qui in ultimo c'è l'eseguirapporto, quindi se si schiaccia qui esce appunto il risultato del nostro lavoro di formattazione qua. Ecco, partiamo, vediamo il nostro navigatore, quindi c'è il rapporto, le proprietà del navigatore sono quelle che abbiamo visto qui, se le nascondiamo si nascondono, se no appaiono, ecco qua, sono quelle che abbiamo visto prima, voilà, le funzioni lasciamo stare, intestazione pagina è appunto questa, dettaglio, intestazione, dettaglio, piedi pagina, quindi se siamo qui, qui o qui, vedete che il navigatore segue, posso cliccare qui, piedi pagina, si seleziona questo, intestazione, seleziona questo, dettaglio, si seleziona la sezione dettaglio. I gruppi quando ci sono, non è detto che ci siano, se si crea un gruppo, apparirà anche il gruppo, allora, intestazione, tasto destro, le proprietà sono già attive, infatti si vedono qua, così come per tutte le altre sezioni, ecco, allora, per, prima di tutto, come, su che formato di pagina, che stiamo lavorando, su quale formato di pagina, stiamo lavorando, qui non lo si vede, ma lo si può vedere, ops, non qua, lo si può vedere, essendo un documento, writer, si va a cercare il formato pagina, e né più né meno, come se stessimo scrivendo un documento, quindi, formato pagina, adesso qui, per difetto, naturalmente io, il mio LibreOffice, in generale, già impostato per lavorare, in formato A4 verticale, vedete che la nostra pagina, è già impostata, su formato A4 verticale, e quello che vediamo qua, nella sezione intermedia qua, è appunto, un A4 verticale, cioè in largo, in larghezza, mi sembra che sono circa 21 cm, non vorrei sbagliarmi, diciamo, un margine di un centimetro di qua, più i centimetri in mezzo, fanno più o meno 18, 19, una ventina di centimetri, insomma, questo replica un po' in, quello che si dice, visi-vig, ovvero, quello che vedete a video, e poi quello che ottenete sulla pagina, i margini della pagina A4, sono questi, che si vedono qua, quindi, la pagina effettiva, valida per lavorare, sono quelle qua all'interno, qua, qua all'interno, e qua all'interno, magari, se, se spengo un attimo, la sezione delle proprietà, lo si vede ancora meglio, ecco qua, vedete che, qua in mezzo, c'è, la, la sezione della pagina, in mezzo, eh, ok, possiamo anche restringere un attimo, magari qua, qualcosina, magari appena un po' così, per allargare un attimo di più, possiamo allargare qua, ecco qua, così, voilà, allora, dicevamo, intestazione pagina, dettaglio, piedi pagina, c'è anche la possibilità, ovviamente, di, aggiungere un, intestazione, vedete, intestazione, piedi pagina, e del rapporto anche, intestazione, piedi pagina, se io li disattivo, resta solo il corpo centrale della pagina, se io lo attivo, mi si presentano intestazione, piedi pagina, così come, perché non sono attivi per difetto, intestazione, piedi pagina, rapporto, eccole qua, intestazione, piedi pagina, rapporto, che prende il colore verde, esistono solo all'inizio e alla fine della stampa, sono le copertine, praticamente, di apertura e di chiusura della stampa, mentre l'intestazione e il piedi pagina della pagina, sono ripetute ad ogni pagina che comporrà il documento finale, mentre l'intestazione e il piedi pagina del rapporto, esistono solo all'inizio, prima pagina, e alla fine, ultima pagina, e qui possiamo appunto gestirci queste cose come lo desideriamo, farle sparire, se non ci servono, rispettivamente farle riapparire, molto facilmente, tasto destro sul rapporto, quindi, poi, l'ultima cosa che non vediamo qui, così ve le ho mostrate tutte, sono i famosi gruppi, ordine e raggruppamento, quindi tasto destro, da qualche parte, che le funzioni sono poi quelle, o il pulsante qua, è la stessa cosa, ordine e raggruppamento, io posso crearmi un raggruppamento per, non so, vediamo, inventiamo, è per cognome, diciamo, ecco, un raggruppamento per cognome, vedete che appare in azzurro blu, l'intestazione e cognome, questo qui è l'intestazione del gruppo, quindi la nostra stampa sarà organizzata a rottura di cognome, quindi ad ogni cognome, seguirà il suo dettaglio, alla rottura di cognome, salterà pagina, inizieranno i dettagli per un altro cognome, e così via, questo è il raggruppamento, l'ordine, si può scegliere crescente o decrescente, intestazione del gruppo presente, vedete che c'è, è blu, piedi pagina del gruppo, non è presente per difetto, ma si può attivare anche quella, appare qua, quindi, vedete che raggruppa per ogni valore, va benissimo, mantieni assieme, intero gruppo, o con il primo dettaglio, questo a dipendenza di come verrà tagliata la pagina, quindi o mantiene l'intero gruppo assieme, quindi finché non è finito il gruppo, non salterà pagina per il nuovo gruppo, oppure con il primo dettaglio, quindi verrà stampato l'intestazione del gruppo, una prima parte del dettaglio, e poi ovviamente salta pagina per gli altri dettagli, di solito è più leggibile la stampa, se si mette che l'intero gruppo deve restare assieme, naturalmente non è che la pagina è grandezza infinita, una quattro verticale, mettere il gruppo in una singola pagina, ma se il gruppo è lunghissimo, ovviamente le pagine verranno saltate, al momento che non ci sta più un dettaglio, verrà saltata la pagina dopo, però non verrà ripetuta l'intestazione del gruppo, fino al nuovo gruppo, ecco, lasciamo pure così, così vedete tutti le componenti di una pagina, di un report, tutti assieme, vedete che il navigatore inizia a presentare, gerarchicamente è un po' come per i formulari, la struttura del report, quindi i gruppi ne abbiamo creato uno, e abbiamo il cognome, con la sua intestazione e il suo piedi pagina, ok, ecco, quindi il funzionamento è simile, diciamo, molto simile a quello dei formulari, voilà, poi mantieni assieme, sì, no, tutte queste cose, vedete, ripeti sezione, sì, no, tutte queste opzioni, non finiremmo più il video, se le passiamo tutte, guardatevi l'esempio del report, che vi ho già messo pronto, in banca dati, così vedete le opzioni che ho usato, per ottenere quel tipo di risultato, con quel tipo di saltipagina, con quel tipo di formattazione, per il resto, vi lascio indagare a voi, tutte queste funzionalità, che sono anche abbastanza intuitive, soprattutto per chi è già usato prodotti, simili a questo, allora, qui abbiamo tutte le possibili sezioni, di una pagina rispettivamente di un report, quindi se noi vogliamo, per esempio, giusto per fare un esempio, dare un titolo al report, come in quello che è già presente, dovremo lavorare in questa area, qua, e possiamo usare, per esempio, questo campo testo fisso, vedete questo tipo di campo, qua in cima, testo fisso, che vuol dire, che io qua dentro, magari, posso rimpicciolire solo un attimino, ecco qua, la didascalia, posso mettere titolo del report, voilà, titolo del report, vedete che appare qui, poi, ripeto, la formattazione è quella che, porta via più tempo, in questo tipo di lavori, potete mettere il grassetto, non grassetto, così, ups, grassetto, italico, come volete voi, ingrandire un attimo, questo è il titolo del report, poi, con le linee guida, vedete, le linee tratteggiate, vi aiutano a posizionare, in mezzo alla pagina, tutto ciò, e, visto che questo è il titolo di un report, potremo anche metterlo centrato, potremo poi anche centrare questo oggetto nel, nella nostra pagina 4, in cima avete il righello, possiamo metterlo anche un po' più in mezzo, al centro, e questo è il titolo, intestazione report, quindi ci sarà una volta sola, nel report, ok, intestazione report, che ha queste caratteristiche, intestazione del rapporto, forza una nuova pagina, quindi, prima della sezione, vuol dire che, ci sarà una pagina bianca, prima della, intestazione del report, oppure dopo la sezione, quindi viene stampata, la copertina del report, e poi si salta subito, una pagina nuova, che di solito, può essere una buona, una buona soluzione, impostare almeno questo, per avere la copertina, per conto suo, e non già dei dati, dopo il titolo, quindi, nella prima pagina, ci sarà solo il titolo del report, e poi ci sarà subito, un salto pagina, mantiene a 6 mesi, se no, visibile sì, chiaramente, perché se lo voglio, sfondo trasparente, oppure un altro tipo di sfondo, colore sfondo, se dico, sfondo trasparente no, mi è permesso anche, di scegliere, uno sfondo, vedete, la barra qui, testazione rapporto, diventa celestina, per esempio, se noi proviamo, a, quindi, salvare, è stesso, tra l'altro, prima che me ne dimentichi, salviamo rapporto 1, e, discorso vale sempre, si salva qui, per confermare, rapporto 1, nella banca dati, quindi, se proviamo, un'anteprima, di questo report, cioè, se lo eseguiamo, usiamo questo pulsante, facciamo esegui, ci si apre, un file di testo, e vedete, che c'è una prima pagina, con una seconda pagina, con le varie pagine, per le varie intestazioni, vedete, qui ci sono varie pagine, bianche, per il momento, perché non abbiamo dati, da nessuna parte, nelle varie sezioni, del report, però vedete, che il titolo, con lo sfondo azzurrino, appare già, in questa, posizione, abbastanza in mezzo, alto così, nella pagina, perché naturalmente, gli abbiamo detto, che è alto così, noi possiamo, però, anche farlo, più alto, più basso, facciamo più basso, il nostro titolo, ripetiamo la prova, vedete, che diventa più stretto, tutto segue, diciamo, quello che vedete a video, poi viene replicato, nel documento finale, e questa è l'intestazione, del rapporto, così come, l'intestazione pagina, verrebbe ripetuta, ad ogni pagina, lo stesso principio, di utilizzo, poi, per esempio, abbiamo creato, un gruppo cognome, io direi, che il campo cognome, che vediamo qua, lo possiamo trascinare, nell'intestazione, del cognome, e così, appariranno, i cognomi, nell'intestazione, di gruppo, nelle varie, intestazioni, di gruppo, perché, adesso qua, devo mettere, ecco, devo allineare, i due campi, mettiamolo un po' lì, ecco, l'intestazione, diciamo che il cognome, siccome abbiamo creato, un gruppo, per cognome, mettiamo pure il cognome lì, proviamo, ancora di eseguire, vediamo cosa succede, vedete che, il cognome comincia a apparire, Cesare, poi Darko, solo i cognomi, nei vari gruppi, quindi, un gruppo, per cognome, quindi, ogni cognome, che c'è, fino all'ultimo cognome, disponibile, verrà, verrà stampato, poi, vediamo un po', vediamo un po', nel, piedipagina, e piedipagina rapportano, lo stesso significato, soltanto, in fondo alla pagina, rispettivamente, in fondo alla stampa, dell'intestazione, non stiamo qui a ripetere, come usarli, perché si usano poi, nello stesso modo, però, vedete che, è molto semplice, quindi, c'è una pagina fisica, in questo caso, A4 verticale, che si estende in larghezza, appunto, per la pagina verticale, e in altezza, qui, con le intestazioni, eccetera, eccetera, anche qui, fisicamente, con un'ampiezza variabile, a seconda, di quanto serve, per i vari informazioni, contenute nella stampa, poi, qui c'è, una sezione dettaglio, che dovrebbe contenere, appunto, i valori, che si ripetono, man mano, nel dettaglio della stampa, non so, il dettaglio intervento, quindi, intervento sui PC, per quei tali cognomi, se noi, rieseguiamo, il report, così brutalmente, vediamo la solita intestazione, del report, e poi, qui vedete, dettaglio intervento, per un certo PC, anche per, la signora d'arco, eccetera, eccetera, poi qui il campo, non è allargato abbastanza, per mostrare tutto il testo, eccetera, eccetera, ecco, e qui è tutta questione, di formattazione, però, al principio, vedete che è quello, c'è chi c'è gli ha, c'è chi, ecco, vedete qui per esempio, il tel, con gli elmo, che ha più interventi, quindi si ripete, il dettaglio, più volte, vedete, si ripete il dettaglio, più volte, anche la signora, qui, wonder, che ha più PC, e più dettagli, più interventi, vedete che si ripetono più dettagli, nel dettaglio del PC, e così via, quindi, diciamo che non è proprio corretto quello che ho fatto, nel senso di vista formale, non è che si ottiene un report, un granché ben fatto, rispetto a quello già preconfezionato in banca dati, perché brutalmente ho portato due campi, giusto per mostrarvi come funziona, nell'intestazione del cognome, vediamo un po', se c'è qualcosa da mettere a posto, forza nuova pagina, no, mantieni assieme, diciamo, di sì, quindi mantieni assieme al suo dettaglio, a questo punto, dovremmo vedere, in teoria, una differenza, ecco, vedete, non c'era una pagina per il gruppo, e poi le pagine per i dettagli, ma mantieni assieme, vuol dire che scrive l'intestazione del gruppo, e poi subito mostra almeno il primo dettaglio sotto, li mette assieme, fisicamente, nella stampa della pagina, l'intestazione del gruppo, con il dettaglio che segue, e non più saltar pagina dopo il cognome, poi i dettagli, eccetera, eccetera, vedete che li mette assieme, laddove ci stanno, ovviamente, vedete, laddove non ci stanno, salta comunque pagina, però funziona, ok, questo praticamente è la base, di funzionamento, della creazione dei report, il concetto fondamentale, è che qui viene presentata, fisicamente a video, una pagina, della grandezza, che noi abbiamo impostato, nel formato pagina, in questo caso, A4 appunto, e sia in estensione verticale, che in estensione orizzontale, tenete presente, che quello che impostate, e poi quello che ottenete, fisicamente sulla pagina, anche proporzionalmente, quindi, questo campo, se lo allargate, lo rimpicciolite, sarà la stessa cosa, lo spazio del dettaglio, sarà la stessa cosa, un singolo dettaglio, occuperà, questi centimetri, sono circa, 5, poco più di 5 centimetri, per ogni dettaglio, quindi, calcolate voi, in un'altezza, di 27 o 28 centimetri, di una pagina A4, togliendo immagini, ci stanno tot dettagli, lo sapete già, più o meno, cosa aspettarvi in proporzione, ecco, qua in cima, vediamo che, ci sono, delle, c'è una pulsantiera, con dei tipi di oggetti, che possono essere aggiunti, al report, oltre ai dati, che sono appunto, l'elenco dei campi, qua, qui l'elenco dei campi, presenti nella nostra vista, e in più, appunto, ci sono i testi fissi, che sono come delle etichette, tipo il titolo, che non ha niente a che fare, con i dati variabili, del report, perché i dati variabili, vengono solo, dalla nostra vista, sulla quale è basata il report, il resto, sono tutti testi fissi, qui c'è, un campo di testo, nel quale si può impostare, del testo, qui c'è lì, un campo tipo immagine, nel quale si può mettere, non so, un logo, ecco, per esempio, nell'intestazione pagina, potreste mettere, un campo immagine, e voi impostate poi l'immagine, in questo caso, non è questo, impostate un'immagine, che può essere, appunto, qua, eccola qua, l'immagine, scegliamo l'immagine, quindi qui si può scegliere l'immagine, questa, vabbè, l'immagine che abbiamo già visto, forse è meglio scegliere una più piccola, comunque mettiamo che ci sia un logo aziendale, da qualche parte, lo si può mettere, magari qui in alto a sinistra, per ogni pagina, con una scritta qui da parte, magari con il nome dell'azienda, e via così, eh, qui c'è un grafico, quindi si può mettere anche un oggetto tipografico, piazzare un oggetto tipografico, da qualche parte qui, nella nostra pagina, qua si può mettere una linea orizzontale, vediamo un po', un oggetto linea orizzontale, quindi si può inserire, da far stampare nel nostro report, una linea orizzontale, per come separare in modo elegante, magari una parte di dati con un'altra, anche nel dettaglio, forse più che nell'intestazione, andrebbe meglio, ecco qua, nel dettaglio, magari per separare parti di dettaglio diversa, qui una linea verticale, quindi lo stesso principio di quella orizzontale, ma in verticale, poi, per allineare e ordinare gli oggetti, qua nella pagina, ecco qua, per ordinare gli oggetti, qui nella nostra pagina, ci sono tutti questi pulsanti per allineare, un po' come c'era questo tipo di pulsante, nella gestione dei formulari, c'è anche, un, una dotazione più ampia di questi pulsanti, che permettono di allineare i vari oggetti, perché vedete, non ci si limita ad allineare gli oggetti fra di loro, quindi a sinistra, centrati, eccetera, eccetera, ma anche rispetto alla sezione nella quale sono contenuti, quindi allinea sulla sinistra della sezione, allinea sulla destra, in alto, in basso, riduci la sezione al minimo indispensabile, ecco, se noi prendiamo l'intestazione di gruppo, questa qua, se premiamo questo pulsante, lo riduce, vedete che riduce al minimo indispensabile, lo vero al contenuto, riduce al minimo l'ampiezza della sezione. Naturalmente la possiamo ri-ringrandire se abbiamo bisogno, eccetera, eccetera, vedete qui c'è una paletta di opzioni a disposizione, che permettono tutto questo, poi fra più campi diversi ci sono anche questi pulsanti che fanno adattare fra vari campi a quello che è la larghezza minore, la maggiore, l'altezza minore, l'altezza maggiore, insomma tutti funzionalità qua in cima, ecco, tutti questi adesso che si sono accesi sono meglio visibili, tutti questi pulsanti facilitano, dovrebbero facilitare, velocizzare un attimo la formattazione del nostro report così come lo vogliamo, anche se il lavoro è pur sempre lungo, per formattarlo come si deve per allineare tutti i campi, sarà sempre un lavoro lungo, ma grazie a queste funzionalità è un po' più facilitato. Ecco, io non devo dirvi molto di più per quanto riguarda i report, perché sono come tipo di lavoro un po' simile ai formulari che abbiamo visto nella lezione precedente, e appunto il funzionamento dei campi, il trascinamento dei campi è simile, il concetto della pagina fisica a quattro verticale è semplice, da capirlo si vede qui a video, a occhio è proprio la pagina, viene rappresentata, che viene suddivisa in varie sezioni, ognuna col suo scopo, è facile e intuitivo anche questo capirlo, e quello che mi resta da dirvi però, che è invece importante, è questa nota finale. potete leggervi poi con calma per conto vostro tutta questa nota, però il succo di questa nota cos'è? è che allo stato attuale, almeno quello che ho constatato io fino alla versione 4.0 qualcosa di LibreOffice, è che c'è un problema nella gestione dei dettagli, quando si chiede di stampare il dettaglio unito all'intestazione del gruppo, di un gruppo, in realtà lavorando con i dati in questa sezione, questa qui che vedete qui adesso di dettaglio, in realtà non funziona così, le pagine non vengono tagliate in modo corretto, può succedere magari che un foglio a quattro arrivi a riempire una parte di dettaglio e poi lo tagli nettamente in mezzo per la prossima pagina, è un difetto, si sa che c'è questo difetto, ma allo stato di marzo, almeno di marzo 2013, questo problema esisteva ancora, e lo si poteva ovviare lavorando non con il dettaglio, quindi tralasciando l'uso del dettaglio e lavorando esclusivamente con il gruppo, quindi inserendo tutti i dati nel gruppo. Perché? Perché si è constatato che come aggiramento del problema temporaneo il gruppo non ha lo stesso problema del dettaglio, quindi con il gruppo si tagliano le pagine in modo corretto. Ecco, per capire cosa intendo apro il rapporto già presente in banca data, quindi abbandoniamo questo, perché non ci serve, era solo per mostrarvi come ci si lavora, posso anche eliminarlo. Ecco, il nostro rapporto, lo apriamo in modifica, quindi non in esecuzione ma in modifica, questo è il rapporto preconfezionato che vedete qua. Ecco, voilà, vedete che nascondiamo ancora un attimo la nostra scaletta. Ecco, ne apriamo il navigatore e vediamo come è strutturato il nostro rapporto, quindi c'è non ci sono intestazioni di pagine, in questo caso ho usato solo intestazione rapporto per la copertina, e poi è importante i gruppi, quindi i gruppi sono dei raggruppamenti, dei dati stampati per proprietario e per intervento, per proprietario di pc e per intervento. Ecco, quindi sono due gruppi, quindi possiamo vedere il raggruppamento, vedete, per proprietario e per intervento, quindi c'è forzo il mettere assieme tutto il gruppo dei proprietari, quindi mantiene assieme intero gruppo e mantiene assieme intero gruppo anche per gli interventi. Quindi sono due gruppi uno sotto l'altro. Ecco, questi due gruppi quindi ho evitato di usare la sezione dettaglio perché ha il problema che vi ho raccontato che non taglia giusto le pagine, ma ne ho approfittato di creare due gruppi di cui uno fa effettivamente il ruolo di gruppo che è quello dei proprietari. Quindi in questa intestazione gruppo ci sarà il dettaglio del proprietario dei pc e un secondo gruppo guidato dalla chiave primaria della tabella interventi diciamo così che contiene che contiene appunto i dettagli dei pc e degli interventi e funge da sezione dettaglio perché non posso usarla quindi questo secondo gruppo si assume il ruolo del dettaglio funge da dettaglio e in questo modo comportandosi correttamente il gruppo rispetto alla sezione dettaglio taglia anche le pagine in modo corretto e non taglia a metà i dettagli stampando male ecco tutto lì volevo mostrare appunto un esempio pratico e l'avete a disposizione come modello quindi nella vostra banca dati per ovviare temporaneamente a questo problema che impedisce di usare la sezione dettaglio in tutti i casi finché non verrà corretto questo problema bisognerà usare questa alternativa che non è difficile da usare in fin dei conti e poi la stessa cosa soltanto che funzionando il dettaglio diventa più come dire più intuitivo perché il dettaglio si capisce che il corpo della pagina va riempito quello normalmente in effetti se funzionasse correttamente dovrebbe essere così visto che non è così sfruttiamo questo tra virgolette trucco in modo che ci sia un gruppo superiore diciamo così che guida il raggruppamento principale poi un raggruppamento sotto che permette di paginare in modo corretto in effetti da quello che abbiamo visto se eseguiamo il nostro bel rapporto se vi ricordate vedete che c'è il primo gruppo e il secondo gruppo con i dettagli e quando si ripetono i dettagli quindi ecco in questo caso vedete che sono tre interventi che ci stanno su una pagina e il quarto viene correttamente portato la pagina successiva avessimo usato la sezione dettaglio per questa parte avreste visto che avrebbe continuato a stampare iniziare a stampare questo quarto dettaglio qui e poi a un certo punto saltando al margine avrebbe tagliato completamente la riga di stampa e stampato il resto malamente qui nella pagina nuova ecco il comportamento corretto dovrebbe essere così anche per il dettaglio ma non lo è allo stato corrente ok quindi con questo direi che lascio a voi questo esempio con le impostazioni per ottenere quel tipo di risultato così potete vedere quali sono le opzioni attivate o meno dei vari raggruppamenti e dei mantieni assieme sezioni sì no visibili sì no quindi lascio a voi indagare un po' tutte queste opzioni e avete visto che non è poi così difficile impostare la struttura di una pagina di un rapporto per poi stampare appunto in pdf o in altro formato questi rapporti ecco con questo direi che anche questa lezione sui rapporti la penultima lezione di questo corso sulle banche dati è conclusa e vi do appuntamento alla lezione conclusiva quindi ciao ciao e alla prossima